Ho fatto un intervento misto, diciamo, che ho sostituito dei denti e ho lasciato anche dei miei originali. Ovviamente li hanno sistemati bene e quindi ho risolto sistemandomi tutta la bocca. Allora, io vi ho trovato la prima volta che ho visto il faccione del dottor Palmas su un'insegna pubblicitaria mentre andavo a Cagliari. Questa è stata la prima volta. Poi tramite social ho visto qualcosina però ancora non ero interessato. È stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso che mi si è spaccato un dente che avevo già, diciamo, aggiustato da un mio dentista in Sardegna e quindi mi ha, diciamo, invogliato a rimettere un po' a posto tutto perché non ero proprio, non avevo una masticazione buona. E quindi, grazie alla compagna di mio figlio che ha fatto il suo percorso qui da voi, mi ha invogliato a venire. Ed è stato questo l'incontro con voi. L'impatto è stato positivo. Sono atterrato all'aeroporto di Cicinao, ho già trovato qualcuno che mi ha colto, quindi mi sono già sentito un po' protetto. Allora, i miei problemi erano solo di masticazione. Mi era già stato consigliato degli interventi risolutivi sul fatto di sistemare la bocca. Io ho la mia età, ovviamente, quindi mi avevano consigliato. Quegli anni che ti rimangono, passati bene, cerca di metterti a posto. E questo mi ha fatto già cominciare a pensare a un qualcosa di risolutivo, ecco. E quindi, grazie a tutto, diciamo, tutte queste cose messe insieme, ho dedotto che era meglio mettermi a posto. La prima che ho fatto vedere i miei denti è stata mia moglie, perché mia moglie è il giudice della situazione, diciamo. Quindi mi piace a mia moglie, mi piace anch'io. E quindi mi ha guardato, ha visto già che con i provvisori erano già belli, già potevano andare bene alla mia faccia. E quindi mi ha detto, sì, sì, vanno bene, continuo a farli pure. E così ho fatto. Adesso mi hanno messo i definitivi e mi ha riguardato. Mi ha detto, guarda, addirittura sono anche più belli di quelli che ti avevano messo prima, provvisori. Avere dei denti a posto per me significava abbastanza. Infatti ogni tanto facevo qualche sbiancamento, le pulizie le facevo sempre ogni sei mesi e quindi era già un qualcosa che dovevo risolvere. E questo mi ha permesso di risolvere bene tutto. Anche se ora non faccio più quel lavoro, perlomeno lo faccio parzialmente, però il contatto con la gente lo voglio avere anche sempre decente, insomma.